Bisogna battere qualcosa là fuori e lo faremo con il mio 0-2. Ma è l'autorizzazione della signorina Misato? L'autorizzazione la chiederò dopo aver vinto. Bene, adesso avrai anche tu l'occasione di ammirare le mie capacità di pilota. Però cerca di non disturbarmi. Il suo il fulg. Anfang der bewegung. Anfang des nerfenanschlusses. Auslösung von Eingang Ausgangslings. Singro Start. Errore? Che succede? Interferenze neurali eppure te l'avevo detto di non disturbarmi. Che vuoi dire? Tu stai pensando in giapponese, non è vero? È questo il problema, devi pensare soltanto in tedesco. Ho capito. Banquoer... Stupido! Falla finita! Reconfigurare interfaccia cerebrale, lingua base giapponese. Evangelion 02, azione!